La polizia di Hong Kong promette il pugno di ferro contro i manifestanti che si opporranno allo smantellamento delle barricate. Le autorità dell'ex colonia britannica si accingono ad eseguire le ingiunzioni di sgombero delle aree e della città, occupate da ormai due mesi dai militanti pro democrazia, ma quello all'orizzonte potrebbe essere un muro contro muro. La polizia è preparata ed assisterà gli ufficiali giudiziari ad attuare l'ingiunzione di smantellamento delle barricate a Hong Kong, ha detto il responsabile della polizia. La polizia agirà in maniera conseguente contro chi tentasse di ostruire con la violenza l'intervento degli ufficiali giudiziari. Ieri gli ufficiali della giustizia hanno proceduto allo sgombero di un'area minore degli accampamenti dei manifestanti, ma un gruppo di persone ha reagito facendo brevemente irruzione nel Parlamento locale. Il braccio di ferro tra governo e manifestanti sembra destinato a continuare.